Nel business il denaro è importante, è estremamente importante, quindi non voglio assolutamente sminuire l'importanza del denaro, però viene da riflettere su qual è il ruolo del denaro in tutto questo, qual è il ruolo del denaro nel momento in cui si fa business, nel momento in cui si fa un lancio, perché nel momento in cui andavamo per esempio a scuola era un po' tutto ovvio, avevamo un metro di quanto bene stavamo facendo, ricevevamo i voti, potevamo essere promossi, non essere promossi, eccetera, quindi era sempre abbastanza chiaro se stavamo facendo bene o se non stavamo facendo bene nel nostro percorso. Nel business nel momento in cui diciamo ok lancio, ok sto producendo un prodotto, un servizio, qualcosa, lo sto diffondendo nel mondo, come faccio a sapere quanto bene sto facendo? E bene, molto spesso il denaro, il fatturato, l'utile, l'incasso che si produce con un lancio può essere considerato il metro di quanto bene stiamo facendo. È una prima approssimazione, è grezzo, per l'amore di Dio, non voglio dire che debba essere l'unico metro, l'unica metrica che andiamo a utilizzare, però è un modo per andare a misurare quello che stiamo facendo. Grazie.